Salve, mi chiamo Ivona Chmielewska, sono la proprietaria di Locale Chopin, vi sto proponendo un variante di margherita, margherita al mandarino. Cosa stai facendo in questo momento? Sto mettendo sale nel bicchiere, l'altra metà mettiamo un po' di zucchero. Succo di limone, questo è succo di limone, succo di mandarino, e addosin. Triple set. Etcicione. Mescione. C'è un po' di sottotitoli. Grazie!